Ciao a tutti amici e amiche, bentornati in questo mio nuovo video, continuazione del JJ Dark, che ci sta piacendo tanto. Mi sa che me lo tengo Marika, Marika è la ragazza che l'ha prenotato al volo, anche è stata un po' lei anche a darmi l'idea di provare a fare questo JJ Dark, ed è stata velocissima a prenotarlo. Allora, ieri ho iniziato a fare una cosetta, praticamente vi ricordate la foto grossa che io avevo stampato in questo modo per provare la stampante? L'ho fatta piccola e fai una cosa, fai un'altra, praticamente cercavo di irrigidirla un po', scusate il cagnolone che abbaia, alla fine ho fatto la decorazione. Ecco, allora vi spiego come l'ho fatta. Dunque, son partita dalla semplice stampa e poi ho iniziato a irrigidirla davanti col gesso clear e dietro col vinavil, asciugando di volta in volta e stratificando. Dopodiché l'ho appoggiata sulla copertina e ho pensato di metterci un bordo sotto, quindi, vedete questo è il Patex, cosa ho fatto? Ho messo praticamente una stampa di una mandala, ho appoggiato sopra la foto, l'ho incollata e l'ho strappata in modo irregolare, come piace a me. Tutto intorno ho distressato, che poi non è di stress, ma il distress fai da te. E' buio. Allora, ok, quindi ho fatto un altro strato e si è irrigidita ancora un po'. Dopodiché ho fatto questo bordo, che qui andrà coperto, quindi questa cosa irregolare non si vedrà più, e mi piaceva completare con le piumette. Siccome c'è l'angelo, che a lei piace tantissimo, mi ha mandato lei questa immagine, quindi non è un errore metterlo in copertina, ma praticamente vi dico come andrà fatta la copertina così marica, già che ci siamo, se non le piace potrà dirmelo. Però la faccio dopo, non la voglio fare subito perché altrimenti faccio come l'altra volta che ho un po' faticato a non schiacciare la rosa, la rosellina, se vi ricordate. Quindi la copertina la completo dopo, però volevo giusto capire come mettere, quindi alla fine ho fatto tutta questa decorazione. Allora, all'interessata, io pensavo di farla in questo modo, perché tutto il resto che ho provato non mi piaceva per niente. E' anche vero che il mio primo junk è la mia prima copertina fatta in questo modo un po' elaborata, quindi accetto le critiche perché potrei assolutamente sbagliare. Assolutamente, proprio, anzi, è quasi sicuro secondo me che sto sbagliando qualcosa. Quindi datemi consigli, ditemi soprattutto te Marica. Ti interesserà magari, che ne so, avere quest'immagine qua? Piuttosto che qua, più in alto, piuttosto che in basso, insomma, io pensavo di metterla così centrata. E poi non solo, magari preferisci un altro tipo di nastrino. Io li ho anche neri, però secondo me è un po', ammazza un po' tutto nero, ecco. L'avevo trovato ben bilanciato, fatto in questo modo, ma posso sbagliarmi. Quindi, dimmi tu, io adesso disfo e metto al sicuro queste decorazioni perché appunto non voglio lavorarci sopra. Perché poi alla fine, quando l'inserto sarà cucito, vai sempre a aprire, ma anche prima, per provare, per fare, vai sempre un po' a aprire la copertina e mi dispiace un po'. Allora, quindi io adesso cosa volevo fare? Volevo iniziare a comporre gli inserti. Ieri ho fatto un'altra cosetta, perché volevo, vi ricordate che vi ho mostrato questa carta celestina? Questa qui, fatta con i colori ad alcol. Mi sarebbe piaciuto, però, avere qualcosa di più grigetto. E allora, ecco qua, ho fatto con l'inchiostro nero di cui vi parlavo, ho fatto, ho cercato di macchiare un po' questi fogli nell'acqua. Non ho capito se quest'alcol è, cioè se questo inchiostro è ad alcol o ad acqua. Quindi, secondo me, è un po' ad alcol, perché non si scioglie, non lo so, non me ne intendo, però ho avuto un po' di problemi. Alla fine è venuto in questo modo, ma secondo me non è malaccio poi, con poi tutta la, non so, un po' qua un po' l'acqua, c'è anche un po' di macchie di caffè, perché la carta da forno è sporca di caffè e ha riportato un pochino. Allora, ecco, ce n'era uno che era assurdo, nel senso che non so se è più bello o più brutto. Eccolo qua. Cioè, è particolarissimo. L'ho fatta apposta, perché praticamente quando ho messo le gocce di inchiostro ho cercato di prelevare proprio il, così com'era, il colore. Ed è venuto in questo modo. Io lo trovo carinissimo, un po' ovviamente, un po' scuro. Però secondo me nel JJ Dark ci sta una paginetta così, eh. E quindi, non so, io metterei più che altro queste pagine, perché appunto richiamano proprio lo stile Dark, secondo me. Molto più azzeccato che la carta da caffè, la carta invecchiata col caffè. Io farei un po' un po' tra queste due. Ok. Quindi, siccome ho detto che ne voglio mettere tre, volevo alternare questi due tipi di carta. Vedere un po' sei fogli per ogni inserto e vedere cosa succede. Se poi è troppo, tre, quattro, quattro, quattro. Perché può darsi che sia troppo, eh. Che poi vada a esplodere. Proviamo poi magari a fare una copertina con questo, cioè l'inizio di un inserto magari. Allora, inizio così. Vediamo se devo ancora comunque aggiungere roba, quindi è possibile che, no, poi diventa troppo. Lei tra l'altro vuole tante taschine, quindi già di suo gli spessori aumenteranno. Ok. Secondo me va già più che bene, perché appunto devo mettere ancora altra roba. Può darsi che ne toglierò alla fine. Allora, vado a parificare tutto quanto. Parificare nel senso, dargli la giusta misura. E vediamo un po' subito di togliere tipo un centimetro su ogni inserto in altezza. Che lunghezza! Io lo lascierei anche così. Ma giusto poco poco toglierne, eh. Piuttosto solo pareggiarlo. Perché sono uno più lungo, uno più corto, come sempre, no? Vado a pareggiarlo solo. E faccio anche gli altri due. Ok. Questa è già finita come copertina di un inserto, eh. Allora, qui dentro io mi sono fatta tutto il materiale che userò per questo JJ. Per lo più. Eh, nel senso, poi magari vado a prendere altre immagini un po' più colorate. Però, per lo più, avevo stampato queste immagini dedicate a questo JJ. E questo qui me l'ha mandate sempre Marika. Le buste. Tutto questo è una collezione di Shabby Daddy Duda. Eh, un negozietto di Etsy. Eh, ok. Quindi, penso che se me le ha mandate le piacciono particolarmente. E quindi, credo che tante cose le farò proprio con questo. Molto romantico. Adesso devo solo vedere. Perché io adesso stavo pensando, più che altro, di mettere ancora qualcosa. Ecco, queste qua pensavo di usarle per infilare dentro foto. Tutte queste cosette, queste striscette qua. Volevo mettere nelle pagine per eventualmente infilare delle foto. Perché io so anche l'utilizzo che lei vorrà farne. È una cosa molto, molto carina. E metterà tante foto. Quindi, io però adesso volevo cercare più che altro un'altra cosa. E poi questo ovviamente sarà il prossimo step. Perché mi ha mandato anche, questa è la roba che ho stampato io. Il problema è che non c'è il retro. Vedete, era bello anche mettere queste cose nelle pagine. Però non c'è il retro. Quindi, o le attacco insieme. C'è solo che viene una pagina spessa. O, ecco, ad esempio, una potrei usarla per fare due buste. Più questa qua. Magari insieme a una cosa... Ecco, vedete bene queste così, no? Se io le faccio da parte a parte, le cucio, posso metterle infilate e rilegate insieme ai fogli. Quindi, dovrebbero essere uguali, ma al limite poi taglio. Sapete che faccio? Come primissima cosa vado a cucire questa da fare come taschina. Però, devo stabilire un pochino... Ah! Ho poco spazio. Ho comprato il filo nero, eh. Così almeno, quando sarà ora di rilegare, ce l'avrò. Pensavo di fare però il... Sondare qua. Quindi... Una dalla parte, una dall'altra. Potrei farne anche tre di queste, così... Però uno per inserto avrà queste taschine qui. Dunque, volevo stondare... Cioè fare, no? La mezza... Io lo chiamo la mezzaluna. Stabilire, dunque... Una potrebbe essere di qua... E l'altra di qua. Voila. Adesso, però, visto che poi non potrò più una volta cucito, voglio solo far questo. Perché poi da cucito non si riesce più. Allora, vado a fare questa cucitura. Eccoci qua. Allora, in questo caso qui faccio il nodino. Per chi, magari, avesse appena preso la macchina da cucire, non sapesse. Allora, se l'abelimento è un semplice zigzag, così, su un abbelimento non importa, no? Di chiudere il nodino. Di chiudere questa parte. Mentre invece, in questo caso qua, il zigzag regge proprio la taschina. Se dovesse muoversi, se dovesse sfilarsi, si apre proprio la tasca. Quindi, ecco perché faccio il nodino. Tra l'altro, ho visto un commento, ho intravisto al volo un commento che mi chiede su quella stoffa che ho usato, questa qua, se è il caso di fare lo zigzag. Ma se sfila molto, se la tua stoffa sfila molto, poi rispondo comunque anche tra i commenti perché non so se guarda tutti i video questa persona, questa ragazza. Se sfila molto, sì, è meglio. Io in questo caso qua, avessi fatto lo zigzag, si sarebbe arricciato tutto. Almeno per le mie capacità, ho fatto meno danno a non farlo perché vedi che non sfila. Quindi, non era necessario. Ragazzi, scusatemi, ho una pessima voce oggi perché non sono in forma, non sto tantissimo bene. E allora mi sentite la voce un po' abbacchiata, scommetto. Ma niente di grave, cosette che passano subito, subito. Si immaginava, ho tagliato una parte che era un po' più corta, una un po' più lunga, quindi, visto che forbici professional, cinesini, sono le migliori. Sapete che avevo già queste, no? Cioè, adesso è qualche anno che ce l'ho, un paio d'anni. Mi piace, taglia bene ancora. E questa pure, cioè, bellissime. Le trovo davvero, le forbici. Due euro. Ok, qui, qui ci passo questo. Volevo andare a far così per togliere le parti bianche. Allora, vediamo un po'. Si può mettere o a metà giusta, Io una la metterei a metà giusta. Poi vediamo, per fare i movimenti abbiamo comunque tempo. Ok. Questa si potrebbe mettere anche come prima pagina, eh. Tipo così. Oppure, poi vediamo, io inizio a metterla così. Ok. E qua lei ci metterà foto, biglietti, tutto quello che vuole. Ma vedo che viene tanto in avanti. Vorrei mettere un po' più avanti questa. Qua. Ok. Ho usato il filo bianco, eh. Sta bene. Sta meglio che nero, eh. Ok. Pensavo, invece di fare tutto uguale, le tasche, un inserto l'ho fatto in questo modo. Io lavoro in questo modo, vado un po' a saltini e a pezzi. Sul secondo inserto, per dire qui, a caso, nella terza pagina, pensavo di fare, siccome queste stampe da questa parte sono bianche, pensavo di costruire una cosa, tutta a fantasia così, fatta di taschine, taschette. Dunque, quindi, prendo solo la misura perché poi, infine, andrò a cucirla nella pagina. O a incollarla in modo da lasciare un'altra taschina sopra. Vediamo. Però, soprattutto, in primis, devo sistemarla, devo decorarla. Quindi, metto qua una pinzetta perché ci tengo che sia in questa posizione. Intanto mi torna all'allergia, eh. Stava già andando via. Sarà qualche detersivo, sicuro. Allora, vediamo un po'. Voglio farla caruccia caruccia. Peccato questa parte che, eh, alla fine resta sul retro. Mmm, eh. Per recuperare questa. Eh beh, dai. È curioso, è una cosa simpatica da trovare nel junk journal, no? Però, appunto, perdiamo questa parte di pazienza, a meno che non l'attacco diversamente. Fatemi ragionare. Potrei... No, poi andiamo un po' troppo oltre. No, dicevo, potrei piegarla in tre, in modo che si apra in questo modo, e resterebbe una pagina qua. Potrei, potrei, potrei farlo, invece. Così, andiamo a perdere solo questa parte. Cioè, così. E quindi devo ripiegare di nuovo. E però, l'immagine che resta di qua non è un granché. Preferivo il prima. Allora, vediamo se devo restamparla o magari... scegliere un'altra immagine. Questa qui. Dai. Questa la usiamo diversamente. Mi sembra un po' spiegazzata. Allora. Così. E poi... Vado a fare questo abbellimento, dai. Proviamo. Con diverse taschine. Togliamo la parte... C'è un pochino di bianco. Allora, voglio fare prima uno sfondo. Facciamo così. Utilizzo questa. E così, questa può essere già una tasca. Strappiamo i miei pezzi di carta brutti. Così. Ovviamente, posso non distressare. Così. Chiusa fin qua. In modo che la roba non scappi da dentro. Qualsiasi cosa ci metta. Non dovrebbe scappare. Allora, però... Vado a fare del collage qua sotto. Del collage. Poi vediamo che altro mettere. Perché qui io, anche proprio... Della collezione, ho anche queste. Quindi potrei mettere anche una taschina qua. E collageando sotto, in modo che non si veda... Tutto cosa c'è sotto, insomma. Avevo anche altre taschine. C'è questa qua che ho tagliato male. Potrei piegarla un pochino. Beh, perché ho tagliato via le alette. Non avevo capito il funzionamento. Però non è un problema. Si possono rifare. Riducendola, visto che qua lo spazio è inferiore. Potrei proprio... Più che altro abbassarla. E siccome qua c'è un ventaglietto carino, direi di abbassarla da questa parte. Quindi qui devo considerare il mio pezzo per incollarla. E sopra la devo tagliare. Non ce la faccio a fare così. La faccio prima. Vediamo fino a dove tagliare. Facciamo proprio una taschina bassa. Così. Adesso qua vediamo. Poi però devo collageare tutto sotto. Io qua ho anche stampato delle carte. Così. Ecco, ad esempio qua c'è quest'albero. Però viene un po' tutto troppo cupo. Ecco, magari ci sono questi fiorellini. Che però non ci azzeccano niente. No. Mi terrei su delle tinte neutre. Non altre stampe. Ok. Ho dovuto rifarvi il gesso clear. Perché era terminà. E dunque se vi serve il gesso clear, gesso bianco, pasta stencil, giù in info box. C'è il video per queste cose handmade. Fatte in casa con materiali di facile reperibilità. Tipo talco. O bicarbonato se vi piace un effetto un po' granuloso. Oppure, ovviamente il gesso di Bologna, non sto neanche a dirlo. Ok, va bene. Dunque, qui in info box trovate tutto. Allora, volevo mettere il mio straccetto sotto perché vado a fare spattasciare un po'. Oggi straccetto senza macchie, paghiamo da bere. Straccetto senza macchie, paghiamo da bere. Ok. Allora, solita cosa, eh. Allora, il pennello. Anzi, prima vado a dare questo tutto sul bordino. Perché? Ah, soprattutto qua in mezzo. Perché qua in mezzo io non voglio arrivare. Voglio lasciare che la piega resti libera. Non mi piace che resti rigido, no? E quindi... E poi sì, direi che il resto gli faccio il collage. Quindi non è il caso di... Io lo passo dopo. Qua in mezzo che resta libero. Quindi... Mi necessitava proprio farlo. Ok. Vediamolo al dritto. Non vorrei mettere roba. Allora, vado subito a metterci un pezzo di questo. Allora, vado subito a metterci un pezzo di 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 un pezzo. Allora, vado subito a metterci un pezzo di 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 un pezzo. L'uso del gesso clear è sempre per il fatto che quando esco fuori non diventa lucido, eh? Allora, vado subito. Allora, vado subito. Allora, vado subito. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora togliamo solo Queste cose che escono Forse era anche storta un po' la carta Vabbè noi la raddrizziamo Là Voilà Allora Avevo detto che questo voglio che si trovi sul davanti Quindi metterei questa qui Non so se lasciare un po' di bordo così Ma anche no Però devo ridistressare Qua Anzi Devo ridistressare Qua non l'avevo fatto Allora io direi di andare a mettere la tastina così Questa qui Qua E questa qua Come vi sembra A me piace C'è ancora a metterci questo Un fiorellino Anche lui distressato La Questo lo attacchiamo col Ah questo qua però Ok Usiamo questo E questo E questo Lo vado a mettere col Col Vinaville E ho questo qui Gli ho messo Vinaville Quello che attacca di più Vado a mettere Grazie a tutti. Di qui penso che possa andare bene. Stavo pensando invece di metterlo in questo sistema, che sì era interessante, però mi sa che secondo me è meglio metterlo come pagina. Cosa dite? Non lo so, aiuto! È bello anche così, però resta proprio una pagina spessa da girare. No, forse è meglio metterlo come pagina. Sì, è più interessante. Cioè, era più bello nell'altro modo, ma siccome l'ho voluto fare tutto di collage, secondo me è meglio una cosa così. Cioè, non so, lo trovo che forse è più pratico. Ok, lo rifinisco anche fuori. Volendo fuori si può ancora mettere qualcosa, visto che comunque almeno questa pagina non dice tanto, no? Pensavo, già subito così, di mettere qua una cosa per infilare sempre qualcosa dentro. Però è una carta, non so, non sembra neanche da 100. sembra così morbida, mi sa che devo appoggiarlo su un cartoncino e ritagliarlo. Vedete che fa delle punte qua che... Cosa dite? Diciamo così, lo appoggio su un cartoncino. Questo qua è bello, ma è troppo chiaro da mettere qua. Metto questo. Anche se si vede poco il soggetto, magari lo faccio tanto per renderlo ancora un pochino più interessante su una pagina. Così. Lo incollo e poi lo taglio. C'è una puntina un po' più lunga, ma. va bene, dai. Allora. Almeno ha una consistenza un pochino più decisa. Allora, vado a macchiarmi le mani. Allora, qui lei potrebbe lavare un pochino più decisa. tra infilare qualcosa, voleva le taschine, taschine siano, ok ragazze, io ora chiudo perché non ce la posso più fare, non sto per niente bene, ok, mi rendo partecipe di tutto, niente dai, domani sarà un giorno migliore, procederemo ancora un po', magari può darsi anche che verso sera questo un po' meglio qualcosa faccia, qualcosa magari vado avanti, ok, datemi sempre consigli, soprattutto tu Marika, se vuoi qualcosa di particolare, che vedi che non sto facendo, tu vuoi l'ala, devo stamparla, devo cercarla e stamparla, ok, io vi ringrazio di essere state con me, vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività e ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!